Si avvicina la scadenza del pagamento del bollo auto ma la situazione è di assoluta confusione di incertezza. Automobilisti e agenzie non sanno a chi rivolgersi perché la regione non ha rinnovato il servizio all'Automobile Club e si vaga nella nebbia più profonda. In un comunicato stampa il presidente Frattura ha garantito che le informazioni possono essere chieste agli uffici della regione ma, che si sappia, non sono stati istituiti sportelli dedicati né a Campobasso, né a Isernia, né a Termoli. È facile dire bisogna rivolgersi alla regione. Tutti possono rivolgersi alla regione ma occorrerebbe anche indicare a chi rivolgersi, cosa che è stata dimenticata. Tutto normale per un Molise dove gli amministratori di qualunque livello si segnalano per l'uguale non curanza adottata nei confronti dei cittadini utenti. Comunque la convenzione con l'ACI non c'è più e Satori e SPA ha chiuso. Alle agenzie private non è più permesso di accedere agli archivi informatici regionali con gli aggiornamenti degli ultimi due anni. In sostanza anarchia più totale, con centinaia di automobilisti e titolari di ditte di autotrasporto o noleggio che si aggirano come fantasmi, da un ufficio all'altro senza concludere nulla. La cosa che sorprende di più è come la regione abbia disdetto la convenzione con l'ACI senza nel frattempo aver appaltato i servizi di riscossione regionali. Dopo decine di dichiarazioni e comunicati vari tutto è finito nel dimenticatoio. Esattorie non c'è più, ma non c'è neanche chi dovrebbe sostituirla. Di mezzo ci sono cittadini ed ex lavoratori di esattorie, calpestati nei loro diritti e nelle loro aspettative. Tutto normale per una regione dove purtroppo quelli che dovrebbero dire non dicono e parliamo del governo Frattura. Quelli che dovrebbero protestare non protestano e parliamo delle opposizioni assolutamente evanescenti. E quelli che erano indignati possono tranquillamente e continuare a esserlo perché la realtà non cambia e non sembra destinata a cambiare.